Le elezioni politiche, ascoltiamo il candidato del Movimento 5 Stelle alla Camera nel collegio di Agrigento, Michele Sodano. Prosegue pertanto la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle con il candidato alla Camera nel collegio di Agrigento, Michele Sodano. Un breve consuntivo dei giorni di campagna elettorale che già sono trascorsi, in prospettiva verso il 4 marzo. Sì, la campagna elettorale va molto bene. Io ringrazio tutti i cittadini che ci stanno vicini perché stiamo oggi nel nostro scopo che è quello di aprire questa campagna ai cittadini, farli partecipare e farli capire che questo processo di rinnovamento può avvenire solamente insieme. I temi di cui parliamo sono quelli vicini alla gente, infatti il Movimento vuole proprio avvicinarsi a quelle che sono le esigenze reali dei cittadini. Parlare di temi fondamentali come le pensioni, l'acqua, il lavoro, sono appunto al centro del nostro operato politico. I cittadini ci riconoscono il fatto di essere vicini appunto. Una delle cose più belle del Movimento 5 Stelle è il fatto della rinuncia, dei privi leggi. La nostra politica non è per perseguire dei fini personali ma è per conquistare un progresso insieme. Per questo il Movimento 5 Stelle rinuncia, per esempio, a tutti i privi leggi. E secondo me uno degli esempi più belli è anche quello dei deputati regionali che attraverso il taglio dei loro stipendi hanno per esempio costruito una trazzera, una strada di collegamento tra Palermo e Catania, quando è caduto in viadotto. Abbiamo anche aperto una sede elettorale in Viale della Vittoria 199, che è un luogo di incontro, di aggregazione, in cui tutti sono benvenuti. Io sono là spesso per parlare del programma, per spiegare in che modo arriveremo a governare l'Italia. Ci sono degli incontri importanti che faremo. Il prossimo è mercoledì 14, annaio 18 e 30. Parleremo di uno dei temi più sentiti in acqua. Interverranno Matteo Mangiacavallo, un deputato eletto all'Ars Movimento 5 Stelle, che ha avuto lo scorso novembre delle preferenze incredibili, 17 mila voti a Sciacca circa. È sempre impegnato nei temi più importanti. Ci sarà Rino Marinello, che è incandidato al Senato per il nostro collegio del Movimento 5 Stelle. Ci saranno anche poi Enzo Terasardo e Emanuele Novato, che potranno anche parlare, se i cittadini avranno dei dubbi in particolare per quanto riguarda l'acqua. Il sabato, invece, alle 20, Ignazio Corrao, nero parlamentare Movimento 5 Stelle, sarà sempre presente nella sede, potrà essere conosciuto. Faremo un incontro, una festa, un'inaugurazione. Grazie. Grazie.